Doveva essere soltanto un gioco che però ha rischiato di costare la vita ad uno studente di 18 anni, finito in gravi condizioni dopo un lungo intervento chirurgico eseguito da tre diverse equip nel corso della notte all'ospedale Mazzini di Teramo. Il proiettile calibro 9 partito dalla pistola che il ragazzo aveva sottratto al padre che la deteneva regolarmente gli ha trapassato il cranio. Il diciottenne di Nereto, dopo aver rubato la pistola, è arrivato a Teramo in un appartamento al terzo piano di un condominio popolare di Via Tevere nel quartiere San Berardo che condivide con un suo amico e dove ieri sera, poco prima della mezzanotte, si trovavano altri tre coitanei. Sono loro i testimoni del dramma che hanno raccontato quanto accaduto agli uomini della squadra mobile della Polizia di Stato. Il ragazzo sarebbe peombato in casa all'improvviso impugnando l'arma e agitandola. Poi il diciottenne avrebbe avvicinato la pistola all'altezza della tempia destra e a quel punto sarebbe partito il colpo. Non mi sono sparato, queste le prime parole dopo l'incidente che il ragazzo avrebbe detto quando era ancora cosciente. Una volta stabilizzato è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso del Mazzini dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici che hanno evidenziato fratture gravissime. I sanitari hanno rilevato un foro di entrata all'altezza dell'osso temporale di destra, poco sotto la tempia e sul bordo dell'orbito oculare e il foro di uscita sulla guancia sinistra sotto allo zigomo. All'operazione hanno lavorato i chirurghi dell'otorino, del maxillo facciale e della neurochirurgia senza però poter valutare la riuscita dell'intervento. Ora il ragazzo è in condizioni gravi ma stabili monitorato continuamente nel reparto di rianimazione. Su quanto accaduto ieri sera invece dovranno fare luce le indagini della squadra mobile teramana diretta dal vicequestore aggiunto Roberta Cicchetti. Al momento l'ipotesi più probabile anche stando alle prime parole del ragazzo è che sia stata una bravata, dunque sarebbero escluse volontà di suicidio e giochi particolari tipo roulette russa. Il padre del ragazzo appena si è accorto che l'arma non era nel ripostiglio dove la teneva smontata si è subito precipitato assieme alla moglie a Teramo ma purtroppo è arrivato troppo tardi.